Decine di camion a pieno carico per sottoporre il ponte di Valgadena a prove indispensabili per verificare le condizioni del viadotto. Va in scena in alto piano un'operazione in grande stile per conoscere le condizioni del gigante che collega Enego e Fosa, che al tempo della sua costruzione era il ponte più alto d'Europa nella sua tipologia. Trent'anni dopo la costruzione, oggi la provincia e la viabilità fanno un intervento di controllo, di monitoraggio, con prove di carico molto impegnative sul viadotto di Valgadena, che è una delle opere più importanti della nostra provincia per quanto riguarda i ponti. I mezzi pesanti sono stati posizionati dai tecnici di viabilità SRL della provincia secondo ben precise configurazioni di carico, in modo da sollecitare la struttura in condizioni presidiate e controllate. Un lavoro importante che dimostra l'attenzione sulla viabilità e sui ponti in particolare, soprattutto dopo i recenti fatti purtroppo di Genova di poco tempo fa. I primi dati sono rassicuranti, in linea con quanto previsto dai progettisti. Anche se i tecnici preferiscono non sbilanciarsi, dovendo prima elaborare l'enorme quantità di elementi che si stanno raccogliendo. Tuttavia i pochi centimetri di abbassamento del ponte messo sotto sforzo ad oltre 1000 tonnellate è un buon dato di partenza.